Oggi la società elettronica, impegnata nell'alta tecnologia sia elettronica che digitale dello spettro elettromagnetico, ha siglato un importante accordo con il campus miomerico e il suo impegno nella ricerca. Due gruppi di ingegneria, quello di un'industria e quello di un'università. Ma quello che vorrei sottolineare è che il mondo della tecnologia digitale ha un immenso ed ampio campo di applicazione, sino a toccare la scienza medica, sino a toccare la nostra scienza che sono sistemi complessi con applicazioni completamente diverse, ma c'è un fattore, c'è una base comune dove il colloquio diventa possibile. Penso sia un accordo di grande rilievo tra un'azienda importante che fino a oggi ha lavorato prevalentemente nel tema della difesa, ma che oggi capisce che dalla difesa con la tecnologia si può passare a molte altre realtà come quella della salute, dell'human health, della possibilità di incidere sull'uomo, sull'ambiente e io credo che l'università Campus Biomedico che su questi temi sta lavorando da molto, trovarsi a collaborare con un'azienda di questo livello per progetti formativi sia veramente una grande occasione per entrambe le istituzioni.